Il pronto soccorso è stato progettato e realizzato all'inizio degli anni 90 e aveva subito negli anni 2000, nei primi anni 2000, un piccolo restyling, però oggi è la criticità maggiore dal punto di vista edilizio di questo ospedale perché sono cambiati i flussi degli accessi, ci avviciniamo ai 60.000 accessi a anno. Il cantiere è già aperto e prevede la completa riorganizzazione dell'area di pronto soccorso e il suo ampliamento verso nord. L'importo dei lavori si aggirra attorno ai 2 milioni e mezzo di euro, di cui un milione sarà finanziato dalla regione. Per la parte restante si interviene direttamente con bilancio dell'azienda. Obiettivo della riorganizzazione è migliorare il servizio agli utenti. Dottor Favaro, sostanzialmente cosa cambierà con il nuovo pronto soccorso, cosa cambierà soprattutto per gli utenti del San Bassiano? Beh, cambia soprattutto il modello assistenziale che diamo alla persona, che cerca di mettere al centro quelli che sono i bisogni che la persona porta quando viene in pronto soccorso. Differenziazione dei codici a seconda delle criticità, a particolare attenzione ai soggetti più fragili, vittime di violenza, anziani e bambini, che d'ora in poi avranno aree di attesa dedicate, ma non solo. Abbiamo cominciato a lavorare nell'area critica, lì c'erano due sale, per chi ricorda che il pronto soccorso è esattamente uguale, un'area è già stata praticamente completata, mancano piccole attrezzature che si concludono questa settimana, ed è dedicata soprattutto ai codici gialli e al loro monitoraggio successivo. Cerchiamo anche di migliorare la fase di attesa necessaria durante l'osservazione, perché è chiaro che se su alcuni aspetti si può velocizzare, è chiaro che il paziente va anche osservato per essere dimesso in maggiore sicurezza, anche qualche volta, come sappiamo, riducendo la necessità di ricovero.